Ancora una volta il Vallo di Viano si dimostra terra di talenti. Valentina Mastrangelo, soprano del nostro territorio, con origini tra Pertose e Caggiano e residente da tempo a Polla, vince infatti il quinto concorso lirico internazionale Anita Cerquetti, che si è tenuto a Monte Corsaro. La quinta edizione dell'importante concorso, che si è tenuto all'insegna del ricordo del grande soprano, scomparsa lo scorso 11 ottobre. Valentina, una certezza della musica lirica italiana, è stata premata tra gli altri da Ines Salazar, presidente di giuria del concorso. Valentina Mastrangelo, grazie a questo nuovo successo, ha ottenuto una borsa di studio ed è stata scritturata per la prossima stagione lirica al Teatro di Fermo. Quest'ultimo successo si aggiunge ad altri della carriera di Valentina. Tra gli altri si possono ricordare la vittoria al concorso Festival della Romanza da Camera a Roma, il trionfo al concorso Città di Caserta Belvedere di San Leucio, o ancora si è giudicata la borsa di studio Accademia Lirica Internazionale Catericciarelli e molto altro. Il concorso lirico internazionale Anita Cerquetti è organizzato dal comune di Monte Corsaro insieme all'Accademia Anita Cerquetti, con la collaborazione dell'Associazione Musicale Gilfredo Cattolica e dei Club Rotary, Lions Host e Lions Cluana di Civitanova Marche. «È stata una serata indimenticabile, ho vinto il primo premio Anita Cerquetti, il premio del pubblico ed ho conosciuto artisti eccezionali. Altro non posso desiderare grazie a tutte le persone che credono in me», ha scritto Valentina.